Salve a tutti dal bar di Red Comet per questo aggiornamento su quanto sta accadendo sul fronte ucraino. In questo video parleremo sia dell'offensiva nell'oblast di Kursk che del resto del fronte. Quindi rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di capire cosa sta accadendo. Allora sicuramente nell'oblast di Kursk in questo momento le operazioni ucraine sono sicuramente rallentate, non filtrano notizie né da parte dei russi né da parte degli ucraini. Si continua a combattere lungo tutto il fronte però è anche vero che per esempio i russi dichiarano di aver riconquistato il piccolissimo centro di Komarovka che nella Ukraine Control Map viene dato come in possesso degli ucraini. Nella Deep State Map invece il villaggio di Komarovka non è stato mai dato né catturato dagli ucraini. Quindi anche qui ci sarebbe poi da capire realmente quello che sta accadendo. Poi zona di Corenevo. Nella zona di Corenevo continuano i combattimenti. La parte sud del paese è in mani, in realtà è in territorio conteso. Certamente ieri c'è stata una piccola avanzata ucraina in questa zona perché sono state geolocalizzate i tiri d'artiglieria russi proprio in questa zona. Quindi vuol dire che se gli ucraini aprono, eh gli ucraini, se i russi aprono il fuoco in una determinata zona di terreno vuol dire che quel terreno è in mano agli ucraini o comunque ci sono movimenti ucraini. Il resto del fronte, almeno per quello che non ci è pervenuto nella realtà, è tutto sommato fermo sulle sue posizioni però con continui contrattacchi da parte dei russi che nonostante tutto hanno ceduto un po' di terreno nella parte a sud di Martinovka, a sud-est di Martinovka e insomma fondamentalmente c'è un momento in cui né russi né gli ucraini sembrano che riescano a fare grandi avanzate nel settore dell'oblast di Kursk. Ovviamente già qualcuno gongola, già qualcuno parla di offensiva arenata, qualcuno parla di Id, Bakl, Ucraina, eccetera, eccetera, eccetera ma nella realtà nei fatti non ci sono dati oggettivi per poter stabilire se questa offensiva stia fallendo oppure no. C'è da dire che in questo momento l'offensiva ha costretto i russi a impiegare un sacco di unità che avrebbero fatto comodo in Ucraina e invece l'hanno dovuta utilizzare per bloccare l'incursione ucraina, l'offensiva ucraina nell'oblast di Kursk senza contare l'ennesimo danno internazionale all'immagine di Vladimir Putin senza contare che comunque gli ucraini stanno verificando, controllando se le loro nuove procedure in attacco funzionano correttamente e tutto sommato funzionano correttamente. È un dato di fatto e l'avevo già esplicato negli altri aggiornamenti che comunque il massiccio flusso di rinforzi russi e di unità regolari russe nell'oblast di Kursk avrebbe per forza di cose causato un rallentamento nelle operazioni ucraine. C'è comunque da dire che gli ucraini non hanno mai fatto grandi dichiarazioni di conquiste territoriali come dire ah vogliamo arrivare qui, vogliamo arrivare lì, può darsi semplicemente che gli obiettivi sul terreno li abbiano raggiunti e si stiano limitando ad amministrarli. Questo non si può sapere. Quindi si attendono ulteriori aggiornamenti su quanto sta accadendo nell'oblast di Kursk. Spostiamoci lungo a nord, nell'offensiva a nord. Allora nella zona di Hilbroke invece i russi hanno guadagnato qualcosa. Si parla di poche centinaia di metri terreno però è un dato di fatto che gli ucraini non stanno riuscendo a riprendersi il territorio a nord di Kharkiv e quindi da questo punto di vista resta sempre e comunque una zona problematica nonostante il massiccio impiego di unità veterale. Evidentemente un misto di terreno, perdite subite e magari anche la necessità di limitare queste perdite hanno fatto sì che gli ucraini concentrassero tutti i loro sforzi nella zona di Vonshansk dove in realtà hanno ottenuto qualche timido successo ma nulla che lasci presegire un retiro russo dalle due teste di ponte a nord di Kharkiv. Se ci spostiamo invece lungo il fronte Krimina, Svatove, Kupiansk eccetera 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 i russi continuano a premere ma non ottengono nulla non c'è un'avanzata degna di essere chiamata tale e come sempre quello che colpisce è il fatto che comunque l'unico posto dove sono riusciti ad ottenere qualcosa è invece nel Donbass nel Donbass e nella direzione di Pokrovsk comunque i russi hanno continuato ad avanzare anche ieri hanno fatto piccoli guadagni di terreno non tanto nella direzione di Pokrovsk testa quanto nell'allargamento del loro corridoio dove stanno avanzando quindi anche qui gli ucraini non si capisce è un problema di terreno, è un problema di perdite subite anche qui gli ucraini per l'ennesima volta dimostrano di avere enormi difficoltà a contenere l'avanzata russa che comunque non è un rullo compressore non avanzano di 10-15 km al giorno però resta comunque il fatto che i russi nel settore del Donbass in direzione di Pokrovsk riescono ad avanzare nel settore invece di Chasiviar i russi hanno ottenuto qualcosa ma senza andare a minacciare chissà che hanno ottenuto qualcosa nella zona di Canina sopra a nord praticamente del Canal District ma niente di veramente apprezzabile si riscontra ancora grande pressione su Vuledar dove però non si registrano avanzate russe ma comunque il settore è veramente sotto pressione si vede chiaramente che comunque a livello di unità russe c'è una superiorità numerica quello che però bisogna andare a capire è se questa superiorità numerica è visiva nel senso di bandierine di unità schierate sul campo poi corrisponde effettivamente a quello che le unità hanno sul terreno disponibile nel senso per esempio questo reggimento corazzato è al 100% degli effettivi? non si sa questo reggimento di fanteria motorizzata è al 100% degli effettivi? non si sa probabilmente nessuna di queste unità è al 100% ma c'è anche da dire che anche le unità ucraine probabilmente hanno subito le loro perdite sicuramente inferiori a quelle russe ma anche loro diciamo che se Atene piange Sparta non ride tutto fermo per adesso nel settore di Orikiv che corrisponde a Robotne, Verbove, Novo Prokopivka non ci sono grandi variazioni è tutto fermo scusate questa è la zona di Venica Novosilka il settore di Robotne, Verbove, Novo Prokopivka è qui e anche qui abbiamo la 65esima brigata meccanizzata che sta facendo il Diavola 4 per contenere comunque la spinta russa assistita dalla 141esima brigata di fanteria fanno quello che possono ma nelle ultime settimane hanno comunque dovuto cedere terreno negli ultimi giorni non si riscontrano però avanzate russe nel settore spostandoci invece a sud del Dnipro esattamente come sospettavo quel fantomatico sbarco millantato soprattutto dai mil blog russi si è rivelato in un nulla di fatto non c'era nulla di simile non c'è stato nessuno sbarco non c'è stato nessun inizio di offensiva nella penisola di Chiburn assolutamente sotto alla riva sud del Dnipro tutto sommato e tutto sereno e anche nel settore dell'oblast di Zaporiscia anche in questo settore almeno per adesso non si riscontrano movimenti strani di truppe ucraine ma d'altro canto come voi vedete tra le difese che sono queste linee arancioni e gli schieramenti di unità russe non so fino a che punto sarebbe saggio per gli ucraini ad andare ad attaccare proprio in uno di questi settori la vedo veramente difficile ragazzi quindi se veramente gli ucraini hanno intenzione di fare l'1-2 diciamo che il 2 almeno a mio avviso non sarà nell'oblast di Zaporiscia detto questo spostiamoci invece spostiamoci invece per quello che accade in generale sul fronte ucraino quindi come movimenti sul terreno la situazione è questa diciamo che siamo in un momento di attesa vediamo un pochino cosa succede continuiamo con le notizie del fronte ucraino la centrale la centrale la centrale di raffineria l'installazione di raffineria di petrolio di Prodarsk dopo 10 giorni dell'attacco continua a bruciare e ha coinvolto anche una parte dei somborghi della cittadina che la circondano ma quello che lascia un po' esterrefatti è la risposta fondamentalmente la massiccia risposta russa all'invasione del territorio russo nell'oblast di Kharkiv in data 26 agosto le forze ucraine hanno dovuto affrontare probabilmente quello che è stato il più massiccio lancio di missili e droni sul territorio ucraino i russi hanno utilizzato tre missili Kinsal hanno lanciato sei Iskander M o gli equivalenti coreani N23 dall'oblast di Khursk e di Voronezh hanno lanciato 77 missili KH-101 questi sono missili Kruis utilizzando i bombardieri Tu-95 dalle basi di Volgograd e del Mar Caspio hanno lanciato 28 calibre Kruis missile hanno lanciato tutta una serie di missili Kruis KH-22 dall'oblast di Voronezh una decina di KH-59-69 pare che questi li abbiano lanciati utilizzando ormai i pochi Sukhoi 57 che sono rimasti e i Sukhoi 34 tutti questi dalle basi di Belgorod e dalla zona occupata di Bariupol in tutto hanno aggiunto circa 109 109 droni Szaed lanciati da Jersk Primorsk da Krasnodar dalla zona dell'oblast di Kursk e così via in tutto questo gli ucraini hanno fatto intendere in alcuni post che comunque non sono ufficiali che hanno abbattuto tutti questi missili tutti questi droni nella realtà dei fatti non è assolutamente vero sì sicuramente qualcuno sarà stato abbattuto anche più di qualcuno ma è anche vero che negli oblast di Odessa Vov Volnin Temeschi Vinnizza Zitomir e Zaporiscia i danni alla power grid quindi alle centrali elettriche o comunque non tanto alle centrali elettriche quanto proprio al sistema di distribuzione dell'energia sono stati pesanti e attualmente gli ucraini stanno lavorando per ripristinare l'approvvigionamento elettrico in tutti questi oblast quindi ancora una volta viene dimostrato scusate viene dimostrato che ancora le difese aeree sono comunque insufficienti sia ad assicurare una copertura al 100% della linea del fronte sia a proteggere contemporaneamente il 100% degli obiettivi civili e non ecco perché comunque gli ucraini continuano a chiedere ovviamente l'approvvigionamento di unità antiere fatto sta che comunque le batterie S-300 ucraine le batterie patrium i nasans gli iris t i semmoventi gepard in alcuni casi anche melivoli f-16 hanno contribuito a parare la grande ondata di missili in arrivo però senza riuscire a difendere al 100% a coprire al 100% tutti gli obiettivi comunque c'è da dire che per stessa missione dei mil blogger russi questa non è un'offensiva reiterata questo lancio di missili ma in realtà uno spot on cioè una cosa che i russi possono fare una volta ogni tanto perché non hanno né abbastanza riserve né la capacità produttiva per poter sostenere una campagna continuata di lanci con i missili e questo in questo momento per quanto possa creare problemi all'Ucraina diciamo è anche una fortuna perché se giorno dopo giorno i russi fossero in grado di lanciare 200-250 fra missili cruise e droni sull'Ucraina allora la situazione diventerebbe tragica nel giro di poche settimane fortunatamente per gli ucraini devono in questo momento solo sopportare ancora una volta chiedono che venga tolto il veto di utilizzo delle armi occidentali sugli obiettivi in Russia perché molti di questi lanci avvengono comunque da zone che gli ucraini hanno abbondantemente identificato quindi anche qui si nota come in un modo o nell'altro la lentezza dell'occidente la cosiddetta paura di un escalation nucleare e così via in realtà sia più un impedimento per la resistenza ucraina stiamo a vedere quello che succede e adesso l'ultimo focus sui rumors di assembramenti di truppe bielorusse al confine fra bielorussa e ucraina nella zona nord e soprattutto nella zona di Kiev c'è comunque da dire che buona parte di queste unità sono praticamente unità con effettivi al 30-40% e che se volessero veramente attaccare avrebbero bisogno di fare una richiesta di mobilitazione che sarebbe tranquillamente riscontrabile sul terreno quindi per adesso gli ucraini stanno attenzionando questa possibilità ma ancora non ci sono diciamo le prove concrete di un attacco bielorusso al confine nord con l'Ucraina o al confine sud a secondo dal punto di vista quindi da questo da questo punto di vista e perdonate la ripetizione stiamo a vedere come si evolve la situazione ancora una volta il bar di Recomment vi ringrazia per aver ascoltato e per seguire questo canale mi invita come sempre a iscrivervi l'iscrizione come sempre è sempre gratuita assolutamente e che dirvi dirvi solamente grazie 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 e comunque buon pomeriggio